Benvenuti nel mondo di Edox. Edox è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 1884 a Les Genevées, in Svizzera. Da allora, l'azienda si è guadagnata una reputazione di prestigio nel campo dell'orologeria svizzera grazie alla sua attenzione per la qualità, l'innovazione e il design sofisticato. La produzione di orologi Edox si distingue per la massima cura e attenzione ai dettagli, utilizzando solo i migliori materiali e i movimenti di alta precisione svizzera. Tra le collezioni più popolari di Edox c'è la Cronorally, caratterizzata da un design sportivo e da funzionalità avanzate per gli appassionati di automobilismo. La collezione Cronorally di Edox è l'ideale per gli amanti dell'automobilismo che vogliono indossare un orologio sportivo di alta qualità. Questi orologi presentano una cassa in acciaio inossidabile e una serie di funzioni come il cronometro, il conto alla rovescia e l'indicatore di velocità. Inoltre, la gamma cromatica offre un'ampia scelta di colori e finiture. Un'altra collezione di successo di Edox è la Delfin, che si ispira al mondo subacqueo. Questi orologi sono impermeabili fino a una profondità di 500 metri e presentano una cassa robusta e funzionale, insieme ad altre caratteristiche come il datario e l'indicatore di riserva di carica. La collezione Delfin è perfetta per gli appassionati di immersioni e subacquea. La collezione Grand Ocean di Edox è invece ispirata alla navigazione e presenta orologi con un design elegante e raffinato, con un'ampia scelta di materiali e di colori. Questa collezione si rivolge a chi cerca un orologio elegante e sofisticato, perfetto per ogni occasione. Edox è anche noto per la sua attenzione alla produzione di orologi da donna, come la collezione Les Bemonds, caratterizzata da un design elegante e raffinato, con una cassa in acciaio inossidabile e una lunetta impreziosita da diamanti. Questa collezione è l'ideale per chi cerca un orologio da donna di lusso, elegante e raffinato. In sintesi, Edox è un marchio di orologi di lusso che si distingue per la sua attenzione alla qualità e all'innovazione. Ogni orologio Edox è un capolavoro di design e ingegneria, realizzato con la massima cura e attenzione ai dettagli. Se stai cercando un orologio di lusso di alta qualità, non puoi non considerare Edox come marchio di riferimento. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti